La prossima partita, il prossimo derby col Forio di Billone e Monti, come vi state preparando per questo incontro? Sicuramente il derby è una partita speciale, particolare, almeno principalmente per i ragazzi. Per noi è importante fare i punti, poi vediamo un attimino, ci prepariamo come abbiamo preparato tutte le altre partite. I ragazzi sono tutti disponibili? Sì, orientativamente sì, aspettiamo un attimo il referto del giudice sportivo, però orientativamente dovrebbero essere tutti disponibili.